Fausto, se ti dico la casa oltre il ponte, tu cosa mi rispondi? Sono i luoghi dell'anima e io finalmente dopo 15 anni ho il piacere di presentare ai miei lettori il romanzo che avrei voluto scrivere. In pratica, partendo da una biografia e da una piccola recensione, a distanza di 15 anni adesso ho il romanzo che volevo e sono contento che questo sogno si sia realizzato. Mi viene in mente adesso un aforisma di Nietzsche, scrivi con il tuo sangue e capirei che il tuo sangue è spirito. In altre parole, che significa che il sacrificio, il lavoro, la redizione, il sudore e soprattutto il tempo ti dà la possibilità poi di tirare fuori un argomento del genere. E' chiaro che questa non è una teoria, perché se pensiamo a Marx, il suo libro capolavoro che ha vinto il Nobel l'ha scritto in 18 mesi, però non è che tutti siamo Marx, ecco solo questo. Io sono contento di questo risultato perché i luoghi dell'anima sono il ritorno, ma poi lo vedremo nella fase successiva che ti dirò, ma io ho cercato di sintetizzare questo con quello che ho scritto in quarta di copertine. In pratica è l'avventura del pensiero nell'alba di una bruma, nel misero vuoto della sera, il frammento di una vita intera. Chi è il personaggio di questa casa oltre il ponte? Il personaggio è Giuseppe. Io scrivo in maniera impersonale, quindi sono abbastanza distaccato dal protagonista e descrivo tutto l'ambiente, quindi la fase storica. Il titolo è molto evocativo e quindi ci sono tutte le premesse di una storia bella narrata. Ecco, diciamo che è una pagina casuale di Verismo.